In queste ore si è intensificato l'attacco su Sirte. Le forze fedeli all'autorità di transizione, secondo fonti giornalistiche, starebbero avanzando da est e ovest su colonne di pick-up armati e sarebbero ormai giunte alle porte del centro. La resa della roccaforte di Gheddafi è questione di ore, secondo i combattenti. Abbiamo tre quarti della città nelle nostre mani, nella parte orientale ed occidentale, le zone che fino ad una settimana fa erano ancora contese, se Dio è con noi in massimo due giorni, Sirte sarà nostra. Potrebbe trattarsi della spallata definitiva alle forze fedeli a Raisse che il Consiglio di Transizione attende per avviare la svolta nel governo del paese. Il CNT ha infatti annunciato che subito dopo la caduta di Sirte avrà inizio il processo per indire le elezioni e dare vita ad un'assemblea costituente.